salve a tutti i ragazzi benvenuti in quest'altro video oggi presentiamo un video fotografico che è intitolato le stagioni del tempo con l'occasione saluto tutti i miei amici della vecchia guardia ma in particolare un po questo e quello eccola qui niente fantastico canale poi lei è un'amica niente iscrivetevi a questo fantastico canale poi vincenza sapete carina con tutti comunque niente iscrivetevi al canale attivate la campanella io con questo concluso mi raccomando guardate il video ci vediamo al prossimo video ciao iscrivetevi al canale 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 canale